Cristiano Ronaldo, svelata la vera ossessione, riguarda Messi. Il quotidiano spagnolo Il Mundo ha svelato un nuovo particolare nell'eterno duello tra Cristiano Ronaldo e Leinem Messi. Risalente ai tempi in cui entrambi i calciatori giocavano in Spagna. Ronaldo. Svelata una nuova ossessione verso Messi il calciatore portoghese, durante il suo periodo al Real Madrid, sarebbe stato ossessionato dallo stipendio percepito da Messi al Barcellona. Ronaldo. Sentendosi il calciatore migliore al mondo, voleva infatti anche essere quello più pagato. Il giornale spagnolo ha anche svelato una conversazione tra l'ex Juventus ed il presidente del Barcellona, Josep Maria Bartomeu, durante una cerimonia di premiazione. Ronaldo avrebbe chiesto più informazioni sullo stipendio di Messi, prima di scoprire che era più del doppio rispetto al suo. Una rivelazione che lo avrebbe portato. Qualche mese dopo, a lasciare il Real Madrid per accassarsi alla Juventus. Virgola.